Non può mancare quello che è il brano che ha fatto riconoscere in tutta Italia nel panorama della musica da ballo il clarinetto di mio padre qui andiamo indietro di 50 anni, questo lo voglio dedicare a tutti gli appassionati della nostra tradizione questa sera poi in modo particolare a Marco Mariani, Rosi Velasco, il maestro Albinobili tutta questa compagnia di grandi collaboratori, amici e musicisti il clarinetto è quello di Stefano Zinza, il brano si intitola Terremoto la professora Monica di Gabriele Cambrino Grazie a tutti! 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 Ecco io voglio sentire un bel applauso, il clarinetto di Stefano Zinza, Terremoto! Grazie a tutti!